Attenzione quando si utilizza il Bancomat o qualsiasi altra carta magnetica per fare il pieno alla macchina. I clonatori si sono infatti specializzati, estendendo la loro attività illecita oltre gli sportelli bancari fino alle colonine di benzina. La Polizia Postale di Torino ha infatti sgominato un giro milionario di clonazioni di Bancomat, carte di credito e carte di rifornimento di carburanti attivo in tutto il mondo. Due persone residenti in Romania sono state arrestate in flagranza di reato, mentre una terza che aveva il ruolo di indicare i distributori di carburanti su cui intervenire nei centri commerciali di Torino e provincia è stata denunciata. La banda sistemava gli skimmer nelle colonnine dei distributori automatici in modo da reperire i codici delle carte che venivano inserite. I due lavoravano di notte quando le pompe di benzina erano chiuse e con una velocità incredibile manomettevano i totem per il pagamento automatico senza destare sospetti neppure nelle riprese delle telecamere. Sono stati i conti sbagliati a fine mese a mettere i gestori di alcuni distributori piemontesi in allarme. Hanno fatto una variante rispetto ai Bancomat e quindi alle clonazioni dei Bancomat che è la clonazione delle carte di rifornimento dei carburanti e dei distributori. Poi queste carte clonate chiaramente non vengono spese normalmente, non vengono spese sul territorio ma vengono spese in altre realtà. Nel caso specifico le ultime clonazioni addirittura venivano spese in paesi che non aderiscono alle convenzioni su cui c'è più difficoltà di controllare il flusso di denaro. Va per la maggiore l'Argentina e i paesi del Sud America. In gente il giro di affari. Nello specifico già solo su questa indagine che abbiamo fatto noi su questi arresti nell'ultima perquisizione sono stati trovati ben 12 skimmer che applicati ognuno in una colonnina diversa facendo un calcolo molto approssimativo. Parliamo della cattura di oltre 2000 codici a weekend.